va bene allora io direi di iniziare se siete d'accordo io chiedo prima di tutto scusa se sono costretto a mandarvi un saluto a nome dell'affiso da un parcheggio sono in una macchina ma sto andando in verità a una gara importante all'inizio di una gara importante che avremo in trentino a fai della paganella nella zona della paganella sostanzialmente da cinque giorni d'italia che inizia adesso alle 18 e 30 e quindi con poi devo assolutamente lasciare per poter raggiungere in tempo la località e portare il saluto dell'affiso anche in questa occasione ovviamente che è un po rientro a quelle che erano le competizioni inserite in calendario in passato che avevano avvenuto tanto successo ma a causa della pandemia ovviamente abbiamo un numero ridotto di partecipanti e comunque in questo momento l'ordine dell'iscrizione è abbastanza alto perché sono più di 600 iscritti quindi rispetto a altre edizioni che vedevano molte più persone provenienti soprattutto dall'estero e in questo momento anche da alcuni stati che sono chiusi per la pandemia almeno per i viaggi da parte dei cittadini di quelli stati direi che alla fine è ancora un successo detto questo vengo la riunione di oggi una riunione che c'era stata chiesta da alcuni presidenti dirigenti persone che hanno a che fare sostanzialmente con la amministrazione delle società sportive e che richiedevano alcuni aspetti sia amministrativi che fiscali quindi noi già avevamo messo a disposizione la professionalità di mariano del dottor mariano de carli che ci segue come federazione e che in più occasioni credo abbia anche già risposto privatamente a alcuni quesiti che venivano posti dai nostri tesserati e dai dirigenti dai segretari amministrativi delle diverse società sportive ma in questa occasione si è ritenuto anche così per consentire a tutti di avere una visione un po più ampia di quelle che sono le gli aspetti come dicevo amministrativi e fiscali del gestire una società di fare questo webinar allora io devo ringraziare prima di tutto il dottor mariano de carli che si è messo a disposizione e ha dato un'ora un'ora e mezza del suo tempo in questo caso per poter illustrarvi alcune delle tematiche importanti nelle gestioni e ovviamente ringraziare tutti voi che partecipate augurando che questo webinar possa essere poi visto da tanti in modo tale che sia diffusa una attenzione diciamo a quelli che sono i principi che regolano le materie sia gestionali che fiscali se ci saranno in futuro delle ulteriori richieste ovviamente da parte di persone che hanno dei casi particolari io credo che se indirizzati all'affiso che poi rigiderà il dottor de carli abbiamo l'opportunità anche di rispondere a questo sicuramente questo è uno dei delle prime volte che ci fanno questi seminari particolari diciamo ma credo che dall'autunno prossimo anche in virtù del lavoro che stanno facendo le commissioni gestite dai consiglieri diciamo federali avremo l'opportunità di parlare di mettere diciamo sul tavolo diversi argomenti che non sono solo ovviamente la gestione ordinaria della federazione ma riguardano aspetti che più interesseranno credo proprio le società e i comitati in quest'ottica ovviamente ringrazio i consiglieri che sono presenti e anche quelli che stanno lavorando come il consiglio lavora diciamo per poter portare avanti nel modo migliore la gestione sia della fisocentrale sia per riuscire a dare tutti gli strumenti necessari per una gestione corretta delle società e dei comitati e delle delegazioni io a questo punto devo proprio lasciarvi perché ho circa 40 minuti e quindi per arrivare a fai della paganella e allora vi lascio in compagnia dei consiglieri in particolare di stefano bisotti vicepresidente vicario e di simonetta marossini il segretario generale ringrazio ancora mariano de carri a quale credo di dover cedere la parola se non ci sono altri interventi grazie allora io procederei con appunto questo approfondimento innanzitutto voglio ringraziarla per avermi concesso questa opportunità e cercherò di utilizzare un linguaggio il meno tecnico possibile in modo da poter diciamo essere veramente d'aiuto a coloro che si occupano della gestione amministrativa delle società cosa non semplice in quanto presuppone comunque delle conoscenze specialistiche e una continuo aggiornamento dal punto di vista fiscale e che non è così semplice da diciamo da gestire diciamo che io ho steso un programma di massima e che spaziava un po' su tutte le diciamo tematiche alla fase costitutiva alla fase finale dello scioglimento poi alla gestione amministrativa i compensi però parlando con la signora Simonetta mi diceva che effettivamente il corso si rivolge essenzialmente a società già costituite e quindi magari mi fermo soltanto brevemente sulla prima parte in modo che coloro diciamo gestito dell'associazione possono fare una specie di check up per verificare la correttezza e dei vari adempimenti messi posti in essere nella fase diciamo costitutiva dell'associazione allora cos'è una situazione sportiva? una situazione sportiva è un gruppo di persone che si organizzano per realizzare l'interesse comune che è l'attività sportiva e criteri per individuare l'attività sportiva di direttantistica sono individuati dal CONI il quale a seguito della legge 289 del 2002 ha istituito un registro e che nel quale devono le società per poter avere tutti i requisiti per accedere ai regimi fiscali di vantaggio devono essere scritte e istituisce individuo esattamente quelle che sono le attività che possono essere considerate attività sportive e direttantistica e quindi ecco faccio un inciso qualche mese fa è stata emanata una nuova disposizione che andrà a riformare il mondo sportivo e è già stata prolungata come spesso accade e rinviando per una l'entrata in vigore per una parte nel 2022 però per la parte importante addirittura al 2024 e il registro CONI sarà sostituito da un altro registro sostanzialmente gli addempimenti sia per quanto riguarda il registro CONI in fase costitutiva a requisiti inerenti diciamo le clausole statutarie che consentono appunto di godere di questa agevolazione di questi vantaggi sia contabili che fiscali di fatto non muteranno più di tanto e comunque siamo in attesa dei decreti attuativi e che appunto hanno per il momento questa la scadenza che ho appena diciamo appena detto. Una distinzione importante che va fatta per quanto riguarda le associazioni sportive è le varie forme di associazione che possiamo distinguere. La forma più semplice è l'associazione sportiva non riconosciuta e la quale non ha personalità giuridica e quindi coloro che agiscono il nome per conto dell'associazione rispondono del loro operato. Quindi diciamo non soltanto chi agisce su base di un incarico ricevuto ma chiunque agisce in nome per conto dell'associazione risponde dei debiti che contrae. Questa è però la forma anche più utilizzata in quanto è la forma più semplice per essere costituita. Infatti basta la forma scritta che deve essere registrata presso l'agenzia delle entrate e non prevede controlli di natura formale e quindi diciamo sia per quanto riguarda i costi di costituzione sia per quanto riguarda diciamo gli addentimenti è notevolmente più semplificata rispetto alle altre forme. E quali sono le altre forme? Sono l'associazione riconosciuta, in questo caso l'atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta e sotto forma di scrittura privata autenticata di alto pubblico quindi davanti a un notaio e poi occorre ottenere riconoscimento da parte dell'interpreposto che può essere la prefettura o la provincia o la regione territorialmente competente. Il riconoscimento attribuisce all'associazione la figura di personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale cosa vuol dire? Che per i debiti, i contratti dall'associazione risponde esclusivamente all'associazione e non più le persone che agiscono. La legge 289 ha poi istituito un'ulteriore forma che diciamo ha preso abbastanza piede negli ultimi anni che è la forma della società sportiva. La società sportiva praticamente è proprio una vera e propria società, infatti le forme ammesse sono le società SRL e le società cooperative. Se queste società appunto recepiscono nel loro statuto le clausole normalmente previste per l'associazione, poi magari brevemente andrò a elencare, che possono essere considerate, diciamo, dal punto di vista fiscale, equiparate alle associazioni sportive delle tantistiche, quindi godendo di tutti i benefici e vantaggi fiscali conseguenti e dall'altro lato però godono appunto anche esso della personalità giuridica e della limitazione di responsabilità. Ovviamente i costi, i nalenti, la costituzione, perché anche in questo caso occorre l'atto pubblico, occorre il versamento di un capitale sociale minimo e occorre l'osservanza di tutte le norme previste per, specificatamente previste per le società, per il tipo di società prescelto. È ovvio che comportano dei costi gestionali e degli impegni gestionali piuttosto importanti e quindi la scelta si giustifica soltanto quando effettivamente o per dimensione o per rischio dell'attività o altre situazioni particolari lo ritengono opportuno adottare una forma di questo tipo. e pertanto generalmente, almeno insomma mi occupo da tanto tempo, nel mondo sportivo la maggior parte delle associazioni sono costituite nella forma dell'associazione non riconosciuta. Abbiamo parlato dei requisiti che deve avere lo statuto, sia la legge 289 che la legge del testo unico dei redditi impongono all'associazione, per poter avere di godervi determinati vantaggi, e l'adozione di alcune clausole statutarie. Diciamo, normalmente, e questo è il caso della federazione dell'affigio, a parte di queste situazioni, normalmente sono le federazioni presso le quali le associazioni che chiedono di affiliarsi, che assistono le associazioni che vogliono costituirsi nel verificare se lo statuto proposto si attenga appunto a queste disposizioni. Quindi le cito solo così a titolo informativo, ma sono sicuro che da questo punto di vista le problematiche sono risolte alla radice mediante l'assistenza da parte della vostra federazione. Le clausole principali sono legate, diciamo, quando l'associazione si costituisce logicamente deve ridigere un atto costitutivo o uno statuto. L'atto costitutivo è l'accordo con cui i soci fondatori esprimono la volontà di dar vita all'associazione, quindi deve contenere la denominazione, denominazione che deve riportare anche l'acronimo dell'associazione sportiva dell'etantistica, pena la perdita dei vantaggi fiscali, e deve riportare, diciamo, lo scopo, il patrimonio e la sede, e i primi legali rappresentanti. Lo statuto invece è quel documento che riporta le regole che disciplineranno poi la vita associativa. Quindi lo statuto, appunto, come dicevo in precedenza, deve riportare necessariamente alcune clausole e questo per poter far sì che l'associazione goda di queste semplificazioni, vantaggi e benefici fiscali. Il testo unico, anche la legge del 2002, appunto, prevedono che la denominazione prevede l'indicazione della finalità sportiva e si è riportato l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione dell'attività sportiva dell'etantistica, compresa l'attività didattica. L'attribuzione della legale rappresentanza, quindi, questo si inquadra in quel principio di democrazità, principio generale, secondo cui deve essere gestita l'associazione, portanto occorre che siano previste appunto la possibilità dell'elettorato sia attivo che passivo all'interno dell'associazione, per tutti i soci, logicamente, maggiorelli. Quindi, appunto, è il principio fondamentale che deve ispirare l'associazione nella sua gestione, quello della democraticità e dell'uguaglianza dei diritti. Quindi, appunto, appena accennato all'elettorato attivo e passivo, tra tutti i soci, diciamo, devono avere uguali diritti. Molto spesso gli statuti prevedono varie figure di soci, i soci fondatori, i soci onorari, i soci sostenitori. Ecco, tutte queste categorie, comunque, possono, diciamo, essere previste, ma tutti i soci devono comunque avere i medesimi diritti e poter, diciamo, ambire a ricoprire le cariche all'interno e soprattutto poi partecipare alle assemblee sociali. Questo è un aspetto molto importante perché quando l'Agenzia delle Entrate o la SIAE effettua delle verifiche di natura amministrativa fiscale, la prima cosa che vanno a verificare è che, appunto, la gestione della società venga svolta in modo assolutamente democratico e trasparente. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, non è detto che le cariche devono ruotare, le cariche ruotare ogni tre anni. L'importante è che venga concessa a tutti l'opportunità di partecipare all'assemblea e di ambire, potenzialmente, a ricoprire le cariche che vengono previste, appunto, dallo Statuto. Come ho detto, un'altra clausola importante è, appunto, richiamandomi prima all'assemblea, la forma idonea di pubblicità dell'assemblea, quindi devono prevedere gli statuti espressamente come le assemblee devono essere convocate e in questo caso anche, diciamo, è un elemento, questo molto spesso è verificato, quindi molto spesso gli statuti indicano la possibilità di esporre una convocazione presso l'albo, presso l'entrata dell'associazione. Molto spesso è meglio, è opportuno dar prova, magari anche fotografica, dell'avvenuta convocazione, di accompagnarla comunque tramite email o comunque adesso abbiamo mille strumenti per poter comunicare, ecco, quindi di ampliare il più possibile questi mezzi di coinvolgimento di tutta la compagina associativa. L'atto costitutivo poi deve essere ovviamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e contestualmente deve essere richiesto il codice fiscale. Diciamo, contestualmente la richiesta del codice fiscale, qualora l'associazione avesse intenzione di porre in essere l'attività commerciale, sarebbe opportuno anche richiedere contestualmente appunto la partita IVA in modo che il codice numerico che viene attribuito è unico sia come partita IVA che come codice fiscale. Ovviamente, ripeto, se l'associazione non ha intenzione di svolgere l'attività commerciale è sufficiente che richiedere esclusivamente il codice fiscale. Il passo successivo è appunto l'ottenimento del riconoscimento sportivo e qui entra in ballo anche l'affiso perché è necessaria appunto l'affiliazione, affiliazione che deve essere, diciamo, perfezionata presso o una federazione riconosciuta dal CONI o da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI stesso. L'ulteriore poi aspetto amministrativo sempre da osservare in fase costituente è quello dell'invio del modello EAS che non è altro che una, diciamo, una richiesta di informazione anagrafica relative da parte dell'agente delle entrate nei confronti dell'associazione per individuare la tipologia di associazione e eventualmente andare, diciamo, a classificare l'associazione tra le potenziali associazioni da controllare o meno, a seconda che facciano appunto che ponga in essere attività commerciale o meno. Il modello EAS deve essere presentato da tutte le associazioni che si costituiscono e che, diciamo, sono iscritte al registro CONI ovviamente entro 60 giorni. E sono esonerate soltanto quelle associazioni che non svolgono alcuna attività commerciale, quindi che non hanno la partita IVA e che sono iscritte però al registro CONI. soltanto in questo caso è ammesso l'esonero dalla presentazione del modello EAS. Il modello EAS è molto importante perché soltanto a seguito della presentazione di questo modello l'associazione potrà beneficiare i vantaggi fiscali di cui ha le legge 398 che poi vedremo in seguito. E comunque sono qui, il 398 è quel regime fiscale che è per lo più adottato dalle associazioni in quanto è, oltre che prevedere delle percentuali relative alla redattività molto basse e delle facilitazioni dal punto di vista IVA è anche il più semplice da mettere in pratica. Il modello EAS va presentato quindi poi dalle associazioni di fatto che sono iscritte al registro CONI e che hanno la partita IVA. Può essere presentato in forma semplificata rispetto alle associazioni che non sono iscritte al registro CONI e quindi va presentato la prima volta entro i 60 giorni e poi ogni anno entro il 31 marzo. E se ovviamente sono intervenute delle variazioni rispetto alle indicazioni comunicate in precedenza. Ci sono però alcune variazioni che non necessitano l'invio del modello EAS. Queste variazioni sono quelle che sono già comunicate con altri modelli. Ad esempio la variazione del legale rappresentante o della sede e poiché viene già comunicata dietro la presentazione di un modello specifico A7 si chiama modello quindi queste comunicazioni vengono comunque già fatte entro 30 giorni dalla data di variazione quindi essendo l'agenzia delle entrate già in possesso di queste informazioni non richiede un ulteriore invio del modello EAS. Negli altri casi, nelle altre variazioni, sono alcune in essere operazioni particolari o comunque una volta compilata il modello EAS uno si ha l'idea delle informazioni che vengono richieste quindi delle variazioni che possono interessare. Quindi questo diciamo che appena è scritto è un po' l'iter della fase costitutiva. Passando poi agli aspetti gestionali dell'associazione, come detto, il principio che deve essere seguito è il principio della democraticità, della trasparenza e dell'assenza dello scopo di lucro. La loro servanza non può essere solo formale ma deve essere anche sostanziale quindi non solo sulla carta ma anche deve, coloro che gestiscono e che hanno carica all'interno devono premovarsi di condurre l'associazione nel modo più trasparente possibile. Diciamo, le associazioni sono disciplinate da pochi articoli del Codice Civile quindi non hanno obblighi di natura civilistica per quanto riguarda libri sociali, libri particolari, libri contabili. Per cui molto spesso si fa riferimento comunque o si consiglia l'adozione di libri che sono tipici delle società commerciali più strutturate dal punto di vista amministrativo o contabile ma che aiutano poi a documentare, a dare traccia appunto di questa trasparenza e quindi servono soltanto per dare traccia e per testimoniare in modo cronologico le fasi importanti della vita associativa. Le figure all'interno dell'associazione, così colgo anche l'occasione per parlare poi delle varie figure e dei vari organi dell'associazione. Quindi abbiamo parlato e accennato prima degli associati, dei soci, abbiamo visto che possono esserci più figure di soci, varie categorie di soci, comunque tutti devono avere parità dei diritti e quindi gli associati esprimono quindi la loro, diciamo, partecipano alla vita associativa principalmente attraverso l'assemblea e l'assemblea diciamo è quella, 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 diciamo innanzitutto deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio per approvare il bilancio, il rendiconto dell'esercizio appunto dell'associazione. Quindi l'assemblea poi viene chiamata in causa, abbiamo detto, per eleggere diciamo le varie, per nominare le varie cariche, quindi la prima volta sarà lo statuto che individua l'atto costitutivo o meglio che individua quali saranno i primi soggetti a ricoprire le varie cariche e poi periodicamente, a seconda appunto dei termini previsti dalla statuto per il rinnovo delle cariche, sarà l'assemblea che sarà chiamata a votare secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti appunto dalla statuto a nominare i vari organi direttivi. Diciamo che lo statuto può prevedere dei requisiti per la missione dei vari associati all'associazione, normalmente sempre il direttivo che è l'organo a cui viene deputato il compito di accettare o di escludere un socio e in ogni caso normalmente lo statuto prevede la possibilità dell'associato di partecipare all'assemblea sempre che sia in regola col versamento delle quote associative e che sia iscritta al libro soci. Anche appunto cito il libro soci, ho detto non è obbligatorio però è consigliabile avere, istituire un libro dei soci che riporti in modo progressivo e appunto le indicazioni del base anche al numero di tesseramento attribuito e che appunto individui cronologicamente le emissioni e le generalità e soprattutto i recapiti e proprio perché abbiamo visto prima per ad esempio per l'invio di comunicazioni, quali sono le convocazioni eccetera e poter diciamo documentare qual è l'indirizzo di riferimento che il socio ha comunicato in sede di Costituzione e che poi comunque è sempre compito del socio eventualmente comunicare relative variazioni e ecco è sicuramente utile e diciamo può evitare contestazioni in merito appunto al raggiungimento magari di cuore incostitutivi o appunto deliberativi. Normalmente gli statuti prevedono anche la delega e la possibilità di delegare come sappiamo che normalmente i soci, non tutti i soci anche pur avendo nel diritto poi in realtà partecipano a questa vita associativa e quindi molto spesso anche per raggiungere soprattutto nelle piccole associazioni dove c'è una ristretta base che porta avanti la vita associativa si rende necessario poter diciamo ricevere delle deleghe per poter raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi. Ecco in questo caso normalmente gli statuti prevedono già, indicano dei limiti entro cui diciamo del numero di deleghe da poter attribuire a un medesimo soggetto e in ogni caso un'altra accortezza che suggerisco è quella di non attribuire delle deleghe in modo indiscriminato proprio per non incorrere in possibili contestazioni sempre di legate a questa diciamo regola della democracità nella gestione dell'ente. Un altro aspetto che è da tenere presente è anche se non obbligatorio comunque che è opportuno formalizzare diciamo la riunione assembleare con un verbale, non occorre istituire un verbale, un libro però almeno conservare in modo cronologico copia dei verbali sottoscritti dal segretario, dal presidente è anche questa cosa quantomeno diciamo opportuna e che aiuta a mantenere ecco una trasparenza nella gestione. Un altro organo è l'organo direttivo, lo statuto prevede di solito il numero minimo, il numero massimo e l'organo direttivo è diciamo l'organo a cui è demandata la gestione ordinaria di fatto di fatto dell'associazione al compito principale di redigere il rendiconto e appunto di stabilire le quote associative che annualmente appunto vengono stabilite dal consiglio direttivo e l'appunto al quale è demandata la gestione ordinaria. All'interno del consiglio direttivo o l'assemblea in sede di nomina del consiglio direttivo viene nominato un presidente, il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e di fatto è colui che dal punto di vista diciamo normativo, essendo legale rappresentante realizza di fatto le delibere emanate dal consiglio direttivo, quindi pone in essere e poi effettivamente concretizza le operazioni. Ovviamente il presidente può delegare altri soggetti ma la responsabilità ricade comunque sempre sul presidente, questa diciamo delega è una delega che ha finalità esclusivamente operativa, quindi questo anche non so, agire sui conti correnti, poter operare sui conti correnti dell'associazione e normalmente viene nominato un segretario, un tesoriere eccetera. ecco, sono figure che hanno dei compiti molto importanti all'interno dell'associazione ma diciamo la loro responsabilità si riflette soltanto internamente all'associazione dal punto di vista esterno, colui che è responsabile nell'associazione non riconosciuta è sempre presidente. Se non ci sono domande io passerei un po' a vedere quelli che sono gli adempimenti contabili e gli adempimenti fiscali. Allora, gli adempimenti contabili ovviamente si differenziano a seconda che l'associazione ponga in essere delle attività commerciali o meno. Se le associazioni svolgono soltanto attività istituzionale o comunque delle attività connesse alle attività istituzionali che non ricadono in quelle attività, adesso mi dispiace dover richiamare un articolo del Codice Civile, ma è l'articolo 2195 che è quell'articolo che prevede quelle attività che vengono considerate attività di impresa per definizione. Quindi appunto le associazioni che svolgono attività esclusivamente di natura istituzionale e che svolgono cosiddettamente qualche attività di natura accessoria che può essere appunto anche commerciale, purché appunto non rientra l'articolo 2195 e non hanno comunque l'obbligo di aprire la partita IVA, a differenza invece delle associazioni che pongono in essere anche in modo accessorio delle attività commerciali. Per individuare quelle che sono le attività commerciali, perché molto spesso nell'ambito della gestione amministrativa dell'associazione ci si pone il problema quando l'attività rientra tra le attività commerciali e quando non rientra. Ovviamente per distinguere bisogna far riferimento all'articolo 145 del testo unico delle imposte dei redditi. L'articolo 145 delle imposte dei redditi prevede che sono comunque commerciali alcune attività indipendentemente da come vengano svolte, cioè indipendentemente dal fatto che siano accessorie delle attività istituzionali, indipendentemente dal fatto che comunque vengano svolte in modo occasionale. E quali sono queste attività? Adesso vado a memoria e comunque sono, ad esempio la vendita di beni nuovi, quindi la vendita anche di attrezzature sportive. Ecco, sono sempre attività commerciali che necessitano la partita IVA, l'apertura della sponsorizzazione, l'attività di organizzazione di viaggi, attività di prestazione alberghiere, di alloggio, di pubblicità, di telecomunicazioni, attività di trasporto di persone, la gestione di fiere e la gestione di spacci e somministrazioni di alimenti e bevande. Ecco, queste attività ovviamente se posto in essere obbligano l'associazione a oltradotarsi della partita IVA a dover adeguarsi a quelle che sono le normative fiscali, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Allora, abbiamo detto che appunto le associazioni che non svolgono attività commerciale, quindi non hanno nessun obbligo né contabile né fiscale. L'unico obbligo è quello legato sempre a quel principio di trasparenza e comunque di rendicontare l'attività ovviamente, quindi sarà una rendicontazione delle entrate e delle uscite seguendo il principio di cassa, a cui seguirà poi appunto l'avanzo e il disavanzo della gestione. Nel rendiconto potranno essere diciamo riportate in modo diciamo raggruppato per specifiche voci, le entrate per le quote associative, le donazioni, le uscite per acquisti di beni, le spese per attività sportiva, però ecco non c'è la necessità di avere un diciamo un bilancio più articolato. Anche le associazioni che non svolgono attività comunque, questo rendiconto seppur semplificato, deve essere sottoposto entro 4 mesi all'assemblea dei soci. Passando adesso alle associazioni invece che pongono in essere attività commerciali, ovviamente il primo passo è quello dell'apertura della partita IVA, successivamente devono adottare, devono dotarsi appunto di un impianto delle scritture contabili previsto dalle normative di riferimento. Essenzialmente ci sono diciamo tre regimi fiscali, il regime che quindi poi fiscali e che comportano poi anche dei conseguenti avventimenti contabili. Il regime fiscale ordinario che diciamo è obbligatorio per le associazioni che conseguono un volume d'affari relativo all'attività commerciale di una certa rilevanza e precisamente sono 400 mila euro per le prestazioni di servizi, 700 mila euro per le attività. Ecco penso che difficilmente associazioni riescono a raggiungere dei volumi di questo tipo. Comunque, solo a titolo informativo, l'adozione di questo regime comporta l'adozione di una contabilità ordinaria, quindi un impianto contabile fiscale analogo a quello delle imprese commerciali. Non mi dilungo su quello che poi sono gli aspetti appunto fiscali e gli addempimenti contabili in quanto penso che siano di scarso interesse per appunto coloro che stanno seguendo questo approfondimento. Più interessanti sono altri due regimi, c'è un regime forfettario previsto dal testo unico e che prevede una forfettizzazione del reddito a seconda del volume d'affari. Per le prestazioni di servizi, il 15% con ricavi fino a 15.493,70 euro, per altre attività. Il 15% con ricavi inferiore a 25.000 euro e il 15% con ricavi per altre attività. Non volevo soffermarmi su questi dettagli che comunque nel caso in cui ci fosse qualcuno che avesse bisogno poi posso dare con precisione. Comunque è un regime che si rivolge a associazioni di medie dimensioni e consente una semplificazione sia degli addempimenti contabili che una forfettizzazione del reddito, ma in ogni caso ha delle soglie che comunque sono più penalizzanti di quello che è il regime normalmente più adottato, che è il regime che fa riferimento alla legge 398 del 91 e che appunto è il regime che è diciamo per lo più maggiormente diffuso tra le associazioni. Il regime 398 prevede una soglia di accesso di un massimo di 200, di un volume affari di 250.000 euro riferita alle sue attività commerciali. Per il primo anno di opzione di questo regime questa soglia deve essere rapportata ad anno, cioè ovviamente se mi costituisco il primo di luglio andrà dimezzato e così via rapportandolo appunto all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività nel corso dell'anno da parte dell'associazione. Quindi mi soffermerei su quelli che sono appunto gli addempimenti previsti dalla legge 398 che determina che prevede delle regole abbastanza specifiche sia nella determinazione del reddito imponibile che dell'IVA dovuta e delle semplificazioni ai fini degli addempimenti contabili. Allora, premetto che appunto questa legge 398, le agevolazioni 398 sono riservate alle associazioni sportive che diciamo che svolgono ovviamente attività sportiva che sono scritte agli distroconi per tutte queste associazioni e la legge 398 prevede appunto un coefficiente di reddittività del 3% cioè l'associazione versa l'IRES che è l'imposta appunto sulle società soltanto nei limiti del 3% poiché l'aliquota è del 24% di questa imposta significa che le associazioni sulle fatture, sui corrispettivi incassati, sulle fatture incassate nel corso dell'anno diciamo versa meno dell'1%. Ovviamente la determinazione avviene sulla base del principio di cassa cioè sulle fatture e i corrispettivi che vengono incassati nel corso dell'anno. Dal punto di vista IVA invece il regime offre dei vantaggi e delle semplificazioni estremamente favorevoli rispetto anche al regime forfettario di cui mi sono soffermato in precedenza, quello previsto dal TWIR. Ovvero in questo caso l'IVA viene determinata riducendo l'IVA a debito, l'IVA sulle fatture mense, sui corrispettivi incassati, con una detrazione forfettaria pari al 50% per le entrate relative a le varie attività come la sponsorizzazione, pubblicità, attività di prestazione di servizi e per l'un terzo invece per relative alla vendita di diritti radiotelevisivi. Quindi in questo caso la determinazione dell'IVA avviene solo sulla base dell'IVA dovuta alla quale appunto si viene detratta l'IVA in modo forfettariamente determinato come appena accennato. L'IVA va versata in modo trimestrale, quindi l'IVA dovuta per i mesi gennaio, febbraio, marzo va versata al 16 di maggio, l'IVA del secondo trimestre il 16-20 di agosto, normalmente è la 20 di agosto ma per legge, l'IVA del terzo trimestre il 16 di novembre, l'IVA dell'ultimo trimestre il 16 di febbraio. Questa è una data a cui bisogna fare attenzione perché non coincide con la liquidazione delle attività commerciali che normalmente liquidano l'IVA il 16 di marzo, quindi è anticipata di un mese. Per contro l'associazione non deve presentare la dichiarazione IVA e quindi l'unico adempimento dal punto di vista IVA appunto è quella della liquidazione dell'imposto, del versamento e poi di una registrazione contabile. Registrazione che vale anche ai fini dei redditi. Infatti tra le varie semplificazioni c'è quella prevista appunto ai fini IVA, ai fini dei redditi che è quella di riepilogare anche cumulativamente mese per mese tutte le entrate in un apposito prospetto che deve essere conforme a quello istituito con un decreto ministeriale del 97 che era un registrino dei forfettari dell'epoca e l'importante in questo registrino che vanno annotate sia le entrate relative alle attività in modo separato, sia le entrate relative alle attività istituzionali, sia le attività commerciali per i quali appunto devo versare l'IVA e devo poi versare con la percentuale del 3% l'IRES. e diciamo l'associazione in 398 deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi perché ovviamente l'imponibile viene determinata sulla base appunto delle fatture emesse e dei corrispettivi incassati e quindi diciamo annualmente deve presentare la dichiarazione affidandosi a un intermediario abilitato oppure abilitandosi tramite il fisco online. e la diciamo un ulteriore adempimento dichiarativo è la dichiarazione IRAP che per le associazioni che non svolgono alcune attività commerciali è soltanto diciamo eventuale, la presentazione è soltanto eventuale, cioè è subordinata all'erogazione da parte dell'associazione di compensi a lavoratori autonomi oppure a lavoratori dipendenti. Infatti in questo caso l'imponibile IRAP è costituito dal importo relativo alle retribuzioni e ai compensi a lavoratori autonomi occasionali erogati nel corso dell'anno, al netto ovviamente delle relative deduzioni. Per tutte le altre associazioni che pongono in essere attività commerciali ovviamente la presentazione della dichiarazione dell'IRAP è obbligatoria e l'imponibile è costituito oltre alle voci che ha appena descritto cioè ai dipendenti, alle retribuzioni dei dipendenti, ai compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali anche dell'imponibile delle attività commerciali. Cioè questo famoso 3% quindi diventa rilevante anche ai fini IRAP. Questi sono gli adempimenti principali. L'associazione per optare per la legge 398 ovviamente deve comunicarlo all'agenzia delle entrate mediante la presentazione della dichiarazione IVA e questo è un adempimento anche che può sfuggire perché ovviamente la dichiarazione IVA viene presentata nell'anno successivo occorre tenere a puntarsi questo adempimento perché dal momento dell'effettiva costituzione al momento della comunicazione può passare anche più di un anno. Contestualmente l'opzione deve essere comunicata alla SIAE che ad oggi è ancora l'organo a cui è demandata la possibilità di effettuare dei controlli di natura amministrativa e anche fiscale dell'associazione per conto dell'agenzia delle entrate. Quindi la SIAE deve essere informata anche dell'eventualità dell'opzione alla legge 398. Diciamo che gli adempimenti sostanziali sono questi. Poi ovviamente possono esserci delle situazioni particolari legate alla necessità di dover dichiarare plus valente in natura commerciale però ecco penso che siano adempimenti che riguardino una ristrettissima platea di associazione per cui non intendo soffermarmi in questa sede su questi adempimenti comunque sono eventualmente disponibili nel caso in cui qualcuno avesse la necessità di approfondire queste tematiche. Allora abbiamo accennato al rendiconto e per quanto riguarda anche le associazioni in contabilità ordinari, cioè in contabilità che svolgono attività commerciali, ovviamente hanno l'obbligo di predisporre un rendiconto che potrà essere ovviamente un po' più articolato per il fatto che comunque dovrà riportare la distinzione tra attività commerciali e attività istituzionali, però anche in questo caso non è un vero e proprio bilancio e può, diciamo, consistere in una rendicontazione delle entrate e delle uscite con gli stessi criteri utilizzati diciamo delle associazioni che non svolgono attività commerciali. Comunque, nulla vieta che associazioni più strutturate, associazioni che diciamo hanno un'attività più, una dimensione più importante possano, diciamo, possano ridigere il bilancio seguendo gli schemi previsti per le società commerciali e diciamo pur non avendo l'obbligo di doversi, diciamo, adeguare a questi schemi. Ecco, per quanto riguarda abbiamo parlato delle scritture contabili e una domanda che viene posta è i tempi di conservazione. Ecco, i tempi di conservazione sono quelli classici perché vengono individuati dal codice civile cioè sono i canonici dieci anni per la corrispondenza e le scritture contabili e il termine di prescrizione per le verifiche fiscali normalmente cinque anni a partire dalla presentazione della relativa dichiarazione per quanto riguarda invece la documentazione che ha una valenza esclusivamente fiscale. Allora, diciamo un breve cenno sulle altre imposte, domande che mi vengono poste sulle imposte di bollo, sulle associazioni. Allora, vengo a precisare, le associazioni sono obbligate al versamento delle imposte di registro anche se in misura fissa, cioè pagano sempre 200 euro anche se vanno a modificare lo statuto, quindi l'imposto di registro è 200 euro. L'imposta di bollo è stata, diciamo, tolta nel 2018 a me pare però presuppone che l'associazione sia già iscritta al registro CONI cioè se vado a presentare uno statuto alla prima volta l'agenzia dell'entrata mi chiede l'imposta di bollo perché io devo ancora iscrivermi al registro CONI. Se vado a modificare lo statuto in realtà non dovrei versare l'imposta di bollo anche se molto spesso il funzionario, la persona dell'agenzia dell'entrata non è a conoscenza e mi fa versare comunque questa imposta di bollo comunque in realtà l'imposta di bollo non è dovuta e così come non è dovuta l'imposta alla tassa di concessione governativa. Adesso passerei ad analizzare la disciplina dei compensi che vengono rogati alle associazioni sportive e delettantistiche. Diciamo, alle associazioni sportive e delettantistiche, alle società io alcune delle disposizioni interessano sia le associazioni che le disposizioni agevolative interessano sia le associazioni che le società sportive. Io ho sempre citato le associazioni però come in questo caso queste disposizioni agevolative nell'allogazione dei compensi riguardano sia le associazioni che le società sportive delettantistiche e appunto per le somme erogate ad atleti delettanti cioè a coloro che partecipano attivamente all'attività sportiva quindi atleti, giudici e cronometristi sia a coloro appunto che partecipano all'attività formativa dell'associazione quindi all'assistenza, quindi all'allenatori, accompagnatori e ecco sono previste diciamo delle agevolazioni fiscali nell'ambito appunto del riconoscimento a questi soggetti dei rimborsi forfettari. Queste agevolazioni sono stese anche a quei soggetti che hanno dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa con l'associazione e che svolgono in maniera non professionale attività volta alla gestione amministrativa cioè a quel compenso che viene riconosciuto al volontario, a quel rimborso forfettario che viene riconosciuto a quel soggetto che si occupa della gestione amministrativa ecco rientra in questi compensi agevolati. Quindi tengo a precisare che non sono compensi i rimborsi spesa erogati dietro presentazione dei giustificativi di spesa cioè i cosiddetti rimborsi piedilista i rimborsi piedilista quindi fatti sulla base del documento la fattura può essere anche lo scontrino presentato quando è abbastanza facilmente riconducibile la spesa a una trasferta la fattura dell'albergo del ristorante o anche l'indennità chilometrica qualora che diciamo venga sostenuta con automezzo proprio del soggetto e comunque al di fuori per trasferte sostenute al di fuori del comune dove è ubicata la sede dell'associazione quindi non vale per la trasferta dall'abitazione dell'atleta alla sede dell'associazione ma dalla sede dell'associazione al luogo in cui avviene la manifestazione che deve essere in un comune diverso queste indennità non sono rilevanti dal punto di vista diciamo dei redditi e quindi non hanno alcun non suggiacciono a quella diciamo disciplina che vado adesso ad elencare quindi non comportano alcun adempimento di natura formale se non quello di lasciare traccia ai fini della rendicontazione interna dell'associazione allora sui compensi che vengono erogati che sono dal punto di vista fiscale inquadrati come redditi diversi di cui è l'articolo 67 del Tuir diciamo sono agevolati e quindi non rilevano appunto fiscale fino alla soglia di 10.000 euro fino a 10.000 euro sono esentasse da 10.000 euro a 30.658 euro subiscono una trattenuta a titolo di imposta del 23% cioè dell'aliquota più bassa che attualmente appunto è il 23% più l'addizionale regionale ad esempio in provincia di Trento è l'1,23 subiscono questa ritenuta a titolo di imposta ma non impongono l'obbligo di dichiarazione da parte del percipiente qualora invece questi compensi superino la soglia dei 30.658 si applica in ogni caso dai 10.000 euro in su la ritenuta nella misura che ho citato in precedenza però solamente a titolo di acconto poi il percipiente dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi e eventualmente versare il conguaglio sulla base di altri redditi percepiti quindi soltanto in quest'ultimo caso deve essere presentata dal percipiente diciamo la dichiarazione dei redditi e quali sono gli avventimenti che devono essere posti in essere quando vengono erogati questi compensi allora il primo è logicamente a cura del percipiente stesso il percipiente che può essere anche un atleta anche nel corso di una premiazione cioè il premio previsto da una competizione a un atleta dilettante ovviamente l'atleta che riceve il premio deve rilasciare un'autocertificazione scritta accompagnata quindi dal documento di identità in cui attesta gli eventuali importi o di non aver ricevuto alcun importo della stessa natura perché ovviamente questo adempimento della ritenuta a titolo di imposto di acconto scaturisce per il superamento dei 10.000 euro tenuto conto di tutti i compensi che l'atleta ha ricevuto anche da altre associazioni cioè quindi ogni associazione che eroga appunto il compenso deve premurarsi di ottenere questa certificazione altrimenti potrebbe essere passibile di sanzione anche pesante per aver omesso il versamento della ritenuta d'acconto ovviamente se l'associazione si dota di questa autocertificazione anche fosse non corretta per l'associazione non comporta alcuna poi eventuale diciamo contestazione qualora diciamo avesse agito in modo corretto sulla base di quanto dichiarato e un ulteriore dentimento ovviamente a cura del percepiente è il rilascio di una pietanza che deve essere diciamo a cui deve essere apposta una marca da bollo di 2 euro qualora superi l'importo erogato superi i 77 rotti a euro 77-47 centesimi marca da bollo quello che comunque poiché è a cura del percepiente non rientra in questa nell'agevolazione dell'esenzione dell'imposta di bollo quindi va sempre apposta gli ulteriori adempimenti nascono a capo dell'associazione in quanto è sostituto di imposta e quindi colgo anche qui l'occasione per ricordare che l'associazione a prescindere dal fatto che abbia la partita IVA è sempre sostituto di imposta e cioè cosa significa? significa che comunque deve inversare le imposte per conto di chi collabora nei confronti dell'associazione quindi di professionisti di collaboratori occasionali dei propri dipendenti in questo caso l'associazione ricevesse una fattura da parte di un professionista per una consulenza legale per una consulenza diciamo anche sportiva e deve verificare se il professionista è soggetto a ritenuta da conto e in quel caso andare a versare e ovviamente il versamento viene fatto tramite il modello F24 entro il 16 giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della fattura o del compenso e il modello F24 deve essere obbligatoriamente effettuato tramite home banking o tramite un intermediario diciamo abilitato e nel caso poi che il versamento venisse fatto non penso che siano casi frequenti però in compensazione ecco andrebbe fatto obbligatoriamente da parte di un intermediario e in compensazione con altre imposte con credit imposte di altra natura e un ulteriore addendimento è quello della presentazione sempre tramite per via telematica quindi tramite intermediario abilitazione della CU della certificazione unica normalmente è una scadenza mobile ma comunque è nel corso dei primi giorni del mese di marzo occorre presentare la certificazione che riporta cumulativamente i compensi erogati questa certificazione è relativa a ogni contribuente a ogni percipiente scusatemi riferita all'anno solare e elenca cumulativamente i compensi che il percepiente ha ricevuto da parte dell'associazione nel corso dell'anno un ulteriore adempimento è legato alla presentazione del modello 770 dove elenca i versamenti delle ritenute effettuate questo adempimento dovrebbe diciamo scomparire per evitare appunto duplicazioni perché ormai con i versamenti telematici l'agenzia delle entrate ha conoscenza diciamo in modo puntuale di tutti gli adempimenti svolti all'associazione per cui in futuro il modello 770 dovrebbe appunto scomparire e ecco questi sono gli adempimenti di natura formale alcune indicazioni dal punto di vista sostanziale allora per quanto riguarda i compensi che vengono rogati a associati o a membri del consiglio direttivo ecco occorre fare attenzione non soltanto a trattamento fiscale ma anche che la misura del compenso non ecceda diciamo delle soglie tali che l'agenzia poi mi possa poi considerare poi come distribuzione indiretta di utili e a tale proposito è molto interessante una risoluzione ministeriale comunque un documento amministrativo dove ha dato delle indicazioni precise cioè tale presunzione scatta quando il compenso è erogato all'associate superiore del 20% rispetto allo stipendio previsto per la medesima qualifica stipendi attualmente previsti per la medesima qualifica o mansione del lavoratore dipendente e quando il compenso è erogato a un membro del consiglio direttivo quando superi diciamo le soglie previste per i compensi erogati a sindaci di società o coloro che sono revisori di società comunque che ricoprono delle cariche nell'ambito societario ecco in questo caso bisogna fare diciamo attenzione a non superare queste soglie perché il mancato rispetto di questa clausia della distribuzione diretta degli utili comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali delle associazioni sportive adesso mi avvio un po' alla conclusione c'erano un paio di cose che ancora volevo aggiungere per quanto riguarda gli aspetti diciamo della gestione che possono comunque essere interessanti e uno sono le modalità di finanziamento dell'associazione quindi lo statuto normalmente appunto individua qual è il patrimonio dell'associazione che sono il patrimonio costituito dalle quote associative dai beni acquistati con le entrate e le uscite con le eventuali devoluzioni e donazioni però normalmente ecco l'associazione per svolgere la propria attività e deve mettere porre in atto porre in essere delle diciamo delle attività ulteriori allora faccio un breve inciso la diciamo l'Izze per l'associazione sportiva delle tantistiche consente di svolgere delle diciamo delle raccolte di fondi in coincidenza di diciamo di ricorrenze di diciamo queste sono tipiche le raccolte che vengono fatte tramite l'offerta di fiori di da varie associazioni culturali ecco e infatti questa 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 agevolazione è dedicata a tutte le associazioni e qualora siano poste in essere appunto anche attività commerciali queste raccolte dei fondi siano diciamo comportino lo svolgimento di attività commerciali comunque in forma sussidiaria come appunto è la vendita del ciclamino per sensibilizzare verso una determinata tematica e contestualmente appunto raccogliere dei fondi delle donazioni da parte di chi di chi acquista questi questi beni questi questi prodotti ecco questo tipo di raccolte hanno godono di un'agevolazione sia fiscale sia il finiva purché oltre siano diciamo si mantengano entro limiti entro soglie di 51.000 euro e vengano rendicontate in modo diciamo separato dal rendiconto devono essere presentate insieme al rendiconto diciamo annuale devono essere appunto rendicontate e accompagnate da una relazione che diciamo descriva i motivi per quali è stata fatta la raccolta e descriva anche diciamo in modo analitico entrate e uscite e diciamo godono di queste di queste di queste della totale esenzione dal punto di vista dei redditi e dal punto di vista dell'IVA e soltanto quando raggiungono dimensioni veramente diciamo ecco importanti queste relazioni devono essere anche trasmesse ma comunque l'importante è che diciamo ecco abbiate conoscenza anche di questo tipo di agevolazioni e parlando ritornando al discorso del finanziamento dei modi di finanziamento abbiamo visto che il modo ordinario è quello della raccolta delle quote associative che vengono stabilite annualmente dal consiglio delettivo e queste quote possono essere anche stabilite in modo diverso a seconda dei vari tipologi dei soci e della partecipazione della diciamo del beneficio da parte dell'associato a dei servizi che vengono posti in essere dall'associazione altra fonte di entrata classica è quella dell'attività di pubblicità di sponsorizzazione che comporta l'obbligo sempre comunque dell'apertura dell'attività IVA e della fatturazione ecco a proposito di fatturazione che qui mi permetto di fare dei brevi incisi per quanto riguarda gli implementi amministrativi ad oggi le associazioni non hanno l'obbligo di se non hanno volume d'affari che superano i 65 mila euro non hanno l'obbligo di emissioni della fattura elettronica possono emettere la fattura cartacea solo qualora superano questi limiti è opportuno che si dotino di strumenti per emettere la fattura in modo elettronico altrimenti sarebbe anche l'opportunità di farla emettere da capo a chi riceve la prestazione comunque c'è l'obbligo di documentare la prestazione con la fatturazione elettronica appunto appena detto delle raccolte diciamo in occasione di ricorrenze un'altra forma che è quella del 5 per 1000 e diciamo ovviamente le associazioni riguardano soltanto le società sportive e le tantistiche che svolgono comunque delle attività che hanno una rilevanza sociale e quindi indirizzino anche la propria attività attività formativa dei giovani dei diciamo minorenni oppure anche degli ultra sessantenni quindi che in questo caso non attività formativa ma di praticare attività o comunque di avviare attività diciamo determinate categorie di soci anche svantaggiati ecco in questo caso e se l'associazione può in essere queste tipologie di attività può diciamo beneficiare della devoluzione del 5 per 1000 da parte dei contribuenti anche qui occorre preventivamente iscriversi all'elenco appunto dei soggetti beneficiari occorre inviare in modo telematico una comunicazione quindi o direttamente o comunque tramite intermediario questa comunicazione adesso è diciamo una volta che l'associazione ha seguito la comunicazione ha ottenuto la registrazione permanente quindi fino a poco tempo fa occorreva ogni anno e rinviare comunicare al CONI l'iter era molto più articolato da recentemente è stato semplificato quindi la comunicazione viene fatta una volta sola è necessario rinnovare la comunicazione soltanto quando o venissero meno requisiti o ci fossero delle modificazioni varie al legale rappresentante ecco questo è importante o variassero altri requisiti per i quali appunto sussistemano le condizioni e in questo caso deve essere ripresentata ecco anche in questo caso le associazioni che beneficiano del 5 per 1000 devono rendicontare è appunto la raccolta di fondi insieme accompagnandola da una relazione illustrativa e nel caso queste raccolte superassero i 20.000 euro devono inviare il rendiconto della relazione all'amministratore diciamo erogante cioè alla presidenza del consiglio e comunque ecco solo qualora queste raccolte superassero i 20.000 euro qualora la raccolta non sopra i 20.000 euro è sufficiente conservare presso la sede e per concludere ecco finisco con un accenno alla riforma appunto dello sport di cui ero soffermato anche all'inizio di questa di questa trattazione e riforma che avrebbe dovuto stravolgere di fatto entro breve il mondo delle associazioni sportive comportando nuovi adempimenti e ecco proprio di recente col decreto sostegni proprio quindi proprio l'altro giorno l'entrata in vigore è stata differita per la parte importante cioè per quanto riguarda la disciplina del lavoro la disciplina degli atleti i riconoscimenti cioè aspetti molto più tecnici l'entrata in vigore è stata differita addirittura all'anno successivo il 31 12 2023 quindi al 2024 e invece alcune disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel 2022 disposizioni che comunque sostanzialmente non differiscono e non comporteranno adempimenti molto diversi da quelli che ho appena diciamo elencato in quanto ecco una novità importante e che viene sostituito il registro CONI da un altro registro equivalente comunque e non gestito più dal CONI che appunto è l'elenco delle società sportive delle tantistiche e quindi diciamo vengono ecco previste delle limitazioni all'esercizio e allo svolgimento di altre attività ulteriori a quelle sportive questo proprio perché per diciamo per andare a poter diciamo circoscrivere circoscrivere l'ambito delle associazioni sportive delle tantistiche alle società non lucrative quindi per rimarcare lo scopo non lucrativo delle associazioni e poi un aspetto importante è quello della compatibilità tra associazioni sportive delle tantistiche e enti del terzo settore cosa che appunto diciamo era dubbia fino a poco fino all'entrata in vigore appunto dell'etrata emanazione di questa norma dove adesso diciamo è data appunto la possibilità di cumulare queste due qualifiche e che in determinate situazioni qualora l'associazione svolgesse ulteriori attività che abbiano appunto dei riflessi sociali ecco potrebbe essere anche interessante poter ottenere descrizione al registro del terzo settore in quanto ci sono delle agevolazioni fiscali ancora più diciamo favorevoli rispetto a quelle già favorevoli che ho indicato e comunque diciamo questo è un argomento che forse deve essere anche prematuro e andare ad analizzare in quanto sappiamo che anche la normativa del terzo settore ha avuto una gestazione lunga e tormentata è stata emanata nel 2017 doveva entrare in vigore l'anno successivo e deve ancora entrare in vigore lo dovrebbe diventare tra poco ma comunque diciamo riserverei questo argomento ecco a un eventuale diciamo nuovo incontro qualora la federazione lo ritenesse utile e opportuno io diciamo mi fermo qua ecco sono comunque disponibile qualora ci fossero diciamo persone interessate ad approfondire alcune tematiche che magari ho solo accennato ed eventualmente rispondere a domande buona serata intanto a nome della federazione ringrazio per questa lunga e profonda esposizione io non sono una persona così addentro nelle questioni amministrative fiscali ho preso tanti appunti me li rileggerò e magari mi riguarderò anche la registrazione adesso se qualcuno ha domande potrebbe alzare la mano se vedete in basso a destra c'è scritto reazioni con la faccina e si può cliccare per alzare la manina così diamo la parola in maniera ordinate mi approfitterei però visto che ho già il microfono acceso per fare una domanda è capitato in qualche occasione che chiedono la filiazione e l'affiso delle società delle associazioni che hanno degli scopi sociali piuttosto variegati in cui magari c'è anche la diffusione della pratica sportiva ma che ne so c'è la diffusione del conoscenza del territorio delle pratiche ecologiche insomma di cultura ambientale in cui magari c'è di striscio anche un'attività sportiva in questi casi qui che cose in che fatti specie rientrano sono terzo settore che vogliono iscriversi a una federazione ha un senso oppure sono delle cose totalmente anomale allora diciamo che è una casistica che si sta presentando sempre più frequentemente proprio perché diciamo nascono nascono questa situazione questo gruppo di persone diciamo che hanno esigenze diciamo diverse e non solo finalizzate allo svolgimento di attività sportiva e ovviamente anche questo l'introduzione di questo terzo settore con la sostituzione dell'attività di promozione sociale ecco di promozione sociale l'APS ha indotto un po' diciamo e quindi ha adottare degli oggetti sociali che possano andare bene sia per affiliarsi a una federazione sia anche per affiliarsi all'inter del terzo settore ovviamente dal punto di vista sportivo l'importante è che l'associazione si prefiga lo scopo di svolgere un'attività sportiva prevista dall'elenco attualmente sulle basi delle disposizioni attuali dall'elenco delle attività del CONI e quindi qualora l'attività rientri qualora poi nello svolgimento dell'attività l'associazione il fatto rispecchi tutti i principi e le regole che abbiamo elencato in precedenza non sussistono dei particolari problemi ovviamente una regola che fondamentale di base che lo statuto l'oggetto sociale non può essere indeterminato cioè non posso mettere tutto ecco perché allora diciamo deve essere comunque diciamo circoscritto a determinate attività e che possano essere sussidiari uno con l'altro o complementari non alternative c'è qualche altro che ha dei dubbi o che vuole intervenire sì Stefano Stefano mi senti sì prego prego salvatore allora prima sono chiesto che si parlava di incassi di corrispettivi specifici no allora se questi corrispettivi vengono versati da diciamo enti o comunque da settori diciamo pubblici e se il corrispettivo specifico viene versato è considerato comunque decommercial cioè non è decommerciata commerciale e quindi è necessario comunque emettere una ricevuta anche se non abbiamo la possibilità di fare la fattura non ho capito bene la domanda allora a fronte di dei corrispettivi che possono essere versati ad un ASD che non ha la partita IVA qual è la documentazione che va emessa perché a volte ci chiedono un'attestazione di questa entrata noi non abbiamo la partita IVA pertanto come ci dobbiamo comportare ma allora la partita IVA non è una facoltà è un obbligo nel momento in cui l'associazione pone in essere dell'attività che vengono definite dalla normativa commerciale deve obbligatoriamente dotarsi di partita IVA sono ammesse soltanto dell'attività che diciamo per l'attività connesse con le attività istituzionali che non sono strettamente commerciali quindi diciamo sussidiarie per lo svolgimento dell'attività sportiva soltanto in quel caso lì il documento può essere una notula però normalmente chi richiede il documento è perché ha la necessità di andare a dedurlo quel documento andare e portanto è importante che l'associazione sia in regola dal punto di vista fiscale perché la prima cosa che poi vanno a controllare controlla anche chi non solo diciamo chi emette il documento ma anche chi lo contabilizza come spesa no 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 io la domanda era perché fino adesso noi abbiamo emesso delle ricevute semplici di firmate eccetera che sono andate sempre bene a fronte di delle notule di spesa eccetera adesso abbiamo un'associazione ad esempio che dice noi sì vi diamo il contributo per fare questo tipo di attività ma non ci accontentiamo della ricevuta semplice ecco chiedevo se fino adesso abbiamo agito correttamente o se magari perché in questo caso allora allora vabbè mi dai l'occasione per per aggiungere un'ulteriore cosa allora non si considerano diciamo attività commerciali le prestazioni di servizi no che sono effettuate nei confronti degli associati e comunque sempre attinenti allo scopo istituzionale faccio l'esempio se io sono una società sportiva di nuoto e faccio tengo i corsi ai miei diciamo ai miei associati e non non è attività commerciale quindi basta un semplice documento non un documento fiscale diciamo può essere una notola quello che è più utile per l'associazione la stessa diciamo agevolazione chiamiamola così sussiste quando queste prestazioni vengono e svolte nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività o che sono iscritte al medesimo organismo nazionale o regionale o federazione o appartengono nella stessa federazione quindi non vorrei che appunto la differente diciamo impostazione sia legata al fatto che l'associazione è un'associazione che svolge un'attività diversa da un'associazione invece che è affiliata alla medesima federazione o che svolge la stessa attività solo in questo caso diciamo e quel caso che appunto appena è descritto le attività non sono si chiama decommerzializzazione della prestazione e quindi non comportano diciamo l'assorbimento degli adempimenti fiscali conseguenti quindi diciamo che possiamo avere ho compreso grazie sento pochissimo della verità no ho compreso la risposta quindi ringrazio niente niente altre che vogliono porre delle domande ma visto che nessuno si fa avanti allora io la ringrazio nuovamente per il tempo che ci ha dedicato perché oltre aspetta un attimo che c'è una ah sì c'è un ringraziamento da uno dei partecipanti dell'Orientire della Silla della Calabria penso essere condivisa da tutti quanti so quanto sia difficile condensare in un'ora e mezza degli argomenti così complicati e la ringrazio anche perché so che lo diceva il Presidente prima e me lo conferma anche spesso Simonetta lei è sempre a disposizione per qualsiasi dubbio anche venga alle società e di questo veramente veramente la ringrazio in nome della federazione grazie a voi c'era forse vedo non si sente nulla non so se Fonzaso stava parlando il microfono sembra acceso ma non si sente nulla grazie a tutti ho letto il messaggio di Jane Chappell ma la FISO ha già un aperto la disponibilità del Dottor De Carli a consulenza con le società è già operativo anche da più di un anno due anni penso e lo trovate nel sito con l'indirizzo mail del Dottore per l'invio di qualsiasi quesito amministrativo abbiate bisogno c'è una domanda allora se il corso viene erogato ad una scuola si tratta di decommercializzazione anche in questo caso? ma allora se l'attività formativa rientra sempre nell'ambito dell'attività istituzionale è decommercializzata altrimenti no ok invece da Fonzaso che non riusciva non riesce a far funzionare il microfono c'era in chat questa richiesta se acquistiamo dei materiali per gli atleti possiamo richiedere dei soldi immagino agli atleti sì diciamo possono essere delle quote considerate delle quote associative aggiuntive ovviamente ciò che rileva dal punto di vista fiscale è la vendita agli atleti di attrezzatura sportiva che purtroppo va fatturata e quindi le attrezzature poi devono rimanere di fatto di proprietà dell'associazione pena di non assolvere adempimenti fiscali che non le vieta di venderle però ovviamente l'associazione poi deve assolvere le varie imposte ok non vedo richieste di intervento in chat allora aspetta adriano bettega chiede è valido il termine immagino contributo per materiali immagino che sia se uno adesso metto il richiede di fonzaso e quella di bettega che magari questi materiali vengono dati agli atleti chiedendo un contributo alle spese cioè non è una vendita a prezzo quello che dicevo prima può essere una quota associativa possono esserci possono essere dal consiglio direttivo provvedere delle quattro associative graduate in base al tipo di attività viene riconosciuta la teta e anche la dotazione di attrezzatura e a fronte è magari un piccolo contributo ma logicamente non deve esserci rapporto tra il contributo richiesto e il valore del bene che viene ecco e anche in questo caso bisogna stare attenti che non ci sia una grossa differenza tra quando c'è la vendita tra il prezzo di vendita del bene e il valore del bene perché c'è la distribuzione diretta di utili ok allora visto che la chat è ferma e nessuno chiede di intervenire io di nuovo la ringrazio confermo quanto ha anche messo in chat e anche comunicato Simonetta che lei è sempre disponibile per le società in caso di 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 dubbi aspetta che c'è un'altra richiesta adesso di nuovo da Fonzaso era lo stesso che prima si è appena risposto sì 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 e quindi di nuovo la ringrazio per la disponibilità per oggi è quello che fa sempre costantemente per la società iscritta all'affiso grazie ancora a nome dell'affiso e alle prossime grazie buonasera saluti a tutti grazie da parte mia grazie un saluto termino da grazie 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 grazie